Paolo Sorrentino è stato presente nella puntata di ieri, domenica 13 ottobre 2024, di che tempo che fa. Non soltanto lui, anche il grande Roberto Baggio, leggenda del calcio giocato, e il grande Pep Guardiola, anche lui, leggenda del calcio. Va bene? Ma Paolo Sorrentino, diciamo che si è espresso a partire dal nuovo film che è stato già realizzato, che uscirà il 24 di ottobre nei cinema italiani, si intitola Partenop, unico film italiano in concorso all'ultimo festival di cani in Francia. Più di 10 minuti di applausi per lui e la standing convention da parte del pubblico. Va bene? Nello stesso Sorrentino ha scherzato con Fabio Fazio, avrebbe detto, a me piace molto andare a cani, ho paura perché a cani sono molto inclini a criticarmi male, è una forma di masochismo, non spinta la mia, però mi piace, è molto attizzante, è molto elettrizzante. E per quanto riguarda Partenop, la sua ultima fatica cinematografica, il buon Sorrentino avrebbe dichiarato. Vedi, è una pellicola sulla lunghezza e sull'ampiezza della vita, in cui il corpo di scena è la vita stessa. È un lungometraggio incentrato sulla bellezza degli anni che passano, senza avere impianti, ma l'inconia nostalgia, perché a qualsiasi età si può avere la capacità di stupirsi di quello che è il futuro. Insomma, diciamo che nel film il famoso regista va a, diciamo così, porre anche evidenze di tipo autobiografico. Lo stesso Sorrentino, infatti, avrebbe dichiarato, in tal senso, la protagonista, che è Celeste della Porta, diventa a tutti gli effetti un'antropologa, perché c'è un'analogia con il lavoro che faccio io, guardare, provare, a travisare quello che si guarda. Quello slittamento chiamato fantasia. Partenope è anche giunto a Napoli ed è stato un laboratorio, secondo Sorrentino, immenso, completo e totale per tutta la varietà degli esseri umani e la capacità di creare mistero. Dietro la maschera, infatti, va a conservare aspetti sinistri, luschi e segreti. Va bene? Insomma, Paolo Sorrentino si esplica, si pone, in una condizione di personaggio all'apice di ogni tipo di categoria, risultando in gamba, risultando uomo valoroso, ma soprattutto che ama e non poco il cinema di cui lui fa parte, di cui lui è immerso, immesso. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, vedete di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi, se vi va a commentare e una buona giornata a voi.